Buongiorno, benvenuti, 7.30 in diretta per la rassegna stampa, l'appuntamento quotidiano che inizia la giornata informativa di Fanno TV, sfogliamo insieme i giornali quotidiani che troviamo in edicola con i titoli principali e le notizie al loro interno ma prima di fare questo, come sempre, previsioni del tempo e al manacco del giorno oggi è venerdì 4 marzo, San Casimiro, il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà alle 18.02 e il tempo, guardiamolo questo tempo di questo fine settimana come si presenta all'insegna della variabilità nubi residue nella prima parte della giornata per quello che riguarda oggi però prevalenza di sereno nel pomeriggio precipitazioni sono presenti, residui rovesci e temporali nella nottata e in mattinata lungo la fascia costiera, però in esaurimento, vedete anche la simbologia della cartina è eloquente, minime in diminuzione, massime in aumento quindi insomma c'è un sbalzo di temperature, un differenziale elevato frutto della stagionalità naturalmente tutto questo sabato invece domani ci sarà cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi le precipitazioni saranno presenti anche queste nella giornata di domani però anche queste sempre sui rilievi la costa dovrebbe essere risparmiata però vedete c'è una variabilità le temperature risalgono per domenica anche qui lo schema è lo stesso poco o più parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne anche qui le precipitazioni sempre lungo il crinale i rilievi e le temperature sono stazionarie questo è il tempo per il fine settimana quindi all'insegna della variabilità tra il bello e il nuvoloso allora nei giornali è veramente consistente la presenza del tema della sanità dopo la delibera regionale del 22 febbraio c'è stato un po' scoperchiato il vaso di Pandora Nervi scoperti per tutti gli attori i protagonisti di questo aspetto della sanità pubblica e quindi vediamo nei giornali come hanno titolato e quali sono gli articoli presenti che riguardano questo aspetto partiamo dal resto del Carlino che intervista il governatore delle Marche Ceriscioli ospedale nuovo lo fa la Regione il sito lo decideremo in area vasta il presidente Ceriscioli dice Fosso Seiore è un'ipotesi votata più volte e quindi questo è un aspetto che è forse quello più spinoso allora andiamo a Fano sempre del resto del Carlino vediamo come l'ha presa il sindaco Seri ospedale Fosso Seiore Seri nulla di deciso ma Aguzzi chiede Lumi Sinistra Unita Partito Socialista Udc e Progetto Fano uniti per il no il sindaco dice come ha dichiarato anche ai nostri microfoni ieri dice non mi piace il metodo usato azioni forti naturalmente da parte dell'amministrazione fanese se Marche Nord non rispetterà gli impegni e qui insomma questo è un aspetto che riguarda Fano ma vediamo anche Ricci l'altro soggetto interessato da questo aspetto come l'ha presa ospedale Ceriscioli ci dica cosa vuole fare questo è quello che dichiara Ricci colto di sorpresa anche lui dalla delibera del 22 di febbraio non so niente della scelta di Fosso Seiore però una cosa è chiara per il sindaco Pesarese dice quando io e Seri non abbiamo trovato l'accordo sul sito abbiamo dato la palla in mano al presidente ed ora dice lui è lui a giocare insomma è lui che ha il boccino in mano e io non so nulla e aspetto di capire questa è la sua dichiarazione e vediamo il messaggero come affronta la questione anche qui ospedale e Fosso Seiore la guerra dei nervi perché giustamente ha scoperchiato un po' i nervi a tutti questa cosa del rilancio di Fosso Seiore il sindaco Ricci dice parlerò dopo aver incontrato Ceriscioli ma da Palazzo Raffaello arriva questa affermazione sulla struttura unica non cambia nulla il primo cittadino guarda da tempo a Muraglia in riferimento naturalmente a Ricci in quanto la soluzione meno costosa e impattante quindi insomma sostanzialmente c'è un nulla di fatto posizioni congelate il sindaco Seri porta avanti la sua idea di chiaruccia Ceriscioli dice decideremo noi e Ricci invece per ora la causa di Muraglia vedremo come andrà a finire nelle pagine del resto del carino si continua a parlare di sanità però per un aspetto meno burocratico più pratico un giovane fulminato da attacco diabetico trovato senza conoscenza in casa poi la morte dopo sette giorni di agonia in rianimazione il suo ricordo il parroco Don Giovanni una malattia che ha combattuto fin da piccolo continuiamo rimaniamo nelle pagine del resto del carino dove si parla anche di eventi sportivi l'evento sportivo catalizzante in questi giorni è sicuramente la Coppa Davis e l'incontro di Coppa Davis che si tiene all'Adriatica Arena ci sono state le i sorteggi e quindi apre Lorenzi nel doppio spunta cecchinato l'esito dei sorteggi è questo Paolo contro Chiudinelli e Seppi affronta l'Axonen questo è il sorteggio per la Coppa Davis e tutti gli amanti di questo sport potranno godere di questo spettacolo vedete qui le due squadre nella foto di Rito ancora rimaniamo nelle pagine del resto del carino Madonna Ponte la società fanese nel caso Medio Leasing citazione da 87 milioni per gli ex vertici della controllata di Banca Marche Madonna Ponte vi ricordiamo che è la proprietaria dell'ex area dello zuccherificio il documento qualc'è si chiede questo risarcimento parla di inescusabili carenze di istruttoria e grave negligenza e quindi l'area dello zuccherificio è anche un'area che starà lì sulla rampa di lancio per essere riaggiornata vedremo anche questo aspetto della città fanese come si svilupperà e poi il caso dei 19 gattini nel gattile Melampo dalla soffitta al Grand Hotel sono in affido giudiziario li abbiamo salvati però ora aiutateci perché chiaramente 19 gatti tutti insieme tra cure mediche e cibo e assistenza insomma sono un impatto notevole insomma avete visto anche nel nostro servizio qual è la loro situazione e quindi chi vuole e chi può aiuti l'associazione Melampo per portare insomma a una maggior serenità questi mici questi gatti che hanno avuto sicuramente momenti difficili nell'abitazione dove erano allora ancora da Fano sempre sul tema sanità però su un altro aspetto e Seri appoggia l'esposto alla procura siamo nelle pagine del Corriere Adriatico Udc e Progetto Fano avevano presentato un esposto hanno presentato un esposto in procura per insomma delle carenze che si sono verificate nell'ospedale e anche il sindaco Seri appoggia questa loro iniziativa che dice inconcepibile non avere la chirurgia H24 per gestire le urgenze e le emergenze in caso appunto di problemi dei pazienti presenti nell'ospedale fanese un complotto contro il nostro ospedale rincara la dose il centrodestra che ribadisce la tesi dell'accessione ad un privato per finanziare il nosocomio unico questa è la loro visione della cosa allora rimaniamo sempre sul Corriere Adriatico però vi porto a Senigallia perché la piazza sembra essere la piazza che sta avendo questo restyling da diverso tempo essere l'argomento principale per quello che riguarda la città della spiaggia dorata nuova piazza ancora qui si parla però adesso dopo aver risolto parzialmente i problemi legati ai parcheggi in vista delle festività pasquali adesso si ritorna a riparlare dell'aspetto che questa piazza avrà no agli stemmi papali Pier Federici del Partito Democratico la giunta deve convocare il primo firmatario così prevede lo statuto e quindi insomma anche questo è un aspetto di questa di questa vicenda perché dice il comitato della petizione cartaceo è costituito anche da Virginio Villani Marco Severini ed Enrico Pergolesi falsa partenza per appunto il cartiere in via Cavallotti dove sarebbero dovuti iniziare i lavori già da ieri e poi cronaca nelle pagine che riguardano Senigallia tenta di dar fuoco al bar di via Pirelli ripreso dalle telecamere di sicurezza danni limitati all'allarme lanciato dalla guardia era la Fittis Security quindi insomma la sicurezza ha funzionato allora rimaniamo nelle pagine del Corriere ritorniamo a Fano si parla di welfare e ne parla bene comune e l'alveare che sono sempre stati molto sensibili a questo argomento niente tagli al welfare questo lo dicono a chiare lettere gli esponenti di bene comune e dell'alveare e poi di spalla qui vedete un articolo che riguarda la nostra caserma dei carabinieri di Fano carabinieri e la città e i cittadini Sergio Carboni ha donato un suo dipinto che lo vedete insomma raffigurato alle spalle dei vertici dell'arma e dell'artista che riguarda proprio la città di Fano e il rapporto con le forze dell'ordine in particolare con i carabinieri andiamo nella zona di Marotta sempre nel Corriere Adriatico perché lì è una zona che sarà interessata dalle elezioni prossimamente e i 5 Stelle avanzano quattro proposte ecocompatibili si va dal depuratore rifiuti alla riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico e poi Isola del Piano capitale del biologico lì negli anni settanta insomma ad opera di un agricoltore lungimirante e insomma alquanto sognatore Giro Lomoni fu dato il via al movimento biologico in Italia si partì dal di lì negli anni settanta e adesso una via libera della giunta che ha anche provato il bando di concorso per l'ideazione del logo per coniare il logo che definisce appunto Isola del Piano la capitale del biologico nazionale ancora testata l'ultima che vi faccio vedere è il messaggero anche qui come abbiamo visto prima in testa nervi scoperti le polemiche per la delibera che riporta in auge Fosso Serriore la regione però dice non cambia nulla e Ricci parlerò con Ceriscioli e affanno nel minino finisce anche Minardi e poi fotonotizia per i sorteggi di Davis ed è subito show quindi si parte pronti via e poi a teosceni davanti ad educatrice gli agenti bloccano un detenuto l'episodio è avvenuto a Villa Fastigi duro monito del sappe il meteorologo ci dice che l'ultima neve di primavera è arrivata qualcuno se ne è accorto ieri c'è stata una sfiocata nel pomeriggio in diverse zone qui dell'entroterra e anche a Urbino insomma è comparsa la prima neve compresa anche qui a Fano c'è stato in qualche momento un fioccare di di neve e rimaniamo nell'ultima pagina che riguarda Pesaro il comune vende il vecchio bocciodromo siamo appunto a Pesaro si vuole vendere svendere la struttura del Concordia per un milione di euro il primo tassello per un'operazione che recupera il parco 25 aprile riqualificazione pure il centro storico con interventi che prevedono meno auto e più attenzione al decoro urbano la cronaca presente nelle pagine del messaggero cronaca furti non danno tregua i ladri dell'ora del tè chiamati così perché agiscono in un lasso di tempo che va dalle 5 del pomeriggio alle 8 proprio in un momento ecco qui vedete in un momento in cui le case per assenza dei proprietari causa lavoro causa impegni personali insomma nel pomeriggio è un orario sensibile agiscono appunto in questa fascia di orario e vengono chiamati appunto i ladri dell'ora del tè altre razzie nelle case in gente il bottino gioielli e oro messi a segno furti in via righi l'altro pomeriggio e poi l'ordinanza per l'accattonaggio è difficile dice il sindacato SILP CGL perché senza agenti è un po' difficile far rispettare questa ordinanza senza appunto un adeguato rinforzo di agenti l'ultima pagina è quella di Fano che vi faccio vedere qui si parla di un caso finito in tribunale per un a Pesaro per un professore che insegna in un istituto pesarese ma è originario di Fano studentesse vanno in tribunale per testimoniare in un'odienza durata fino alle 8 di sera quella prof ci molestava imputato un docente di informatica originario di Fano tensione in aula malore e lacrime del docente non ho fatto nulla la verità che siamo in balia degli alunni queste le sue dichiarazioni e poi appunto la donazione del quadro ai carabinieri da parte dell'artista Carboni e questa è l'ultima notizia che vi faccio vedere per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi grazie per essere stati in nostra compagnia Occhio ai giornali torna domani mattina puntualmente alle 7.30 ma sempre sito internet e facebook per rimanere aggiornati in tempo reale con le news e poi tutti gli approfondimenti e quant'altro i nostri servizi nel telegiornale della sera alle 20.30 Occhio alla notizia grazie e buona giornata a tutti voi arrivederci a domani per la rassegna 知 fyne Grazie a tutti.